Non si placano le polemiche sulla questione dei lavori relativi alla pista ciclabile che ha portato alcuni cittadini a manifestare per le vie del centro a Sassari. Il botta e risposta tra cittadini e il sindaco si concluderà con una discussione che verrà fatta nei prossimi giorni. Certo è che l'abbandono dei cantieri porta inevitabilmente a delle proteste da parte di tutti, ma quello che più infastidisce è il fatto che ci si sente abbandonati da una situazione di degrado e di impotenza. I cittadini chiedono se l'amministrazione abbia strumenti per contrastare queste situazioni. La richiesta da parte della cittadinanza è quindi quella di avere tempi certi sulla realizzazione delle opere, chiarezza sulle modalità e rispetto per la cosa pubblica. È durata soltanto qualche giorno la latitanza di Davide Matta, detenuto nel carcere di Bancali, che i carabinieri della compagnia di Sassari hanno riconosciuto e tratto in arresto ieri mattina in via Verona. Davide Matta era stato dichiarato ufficialmente in stato di evasione lo scorso 10 giugno, dopo che non aveva fatto rientro nell'istituto penitenziario dopo un permesso. Al detenuto era stato infatti concesso dal magistrato di sorveglianza di Sassari un permesso premio di due giorni per andare a trovare l'anziana madre che risiede nel comune di Siliqua, con scadenza appunto nel pomeriggio del 10 giugno. Trascorsa qualche ora dal termine ultimo fissato per il rientro e accertato che non vi fossero cause terze a giustificare ritardo, è scattato immediatamente l'allarme con la comunicazione di evasione a tutti gli uffici di pulizia e l'inoltro della foto segnaletica dell'evaso che considerati numerosi precedenti a suo carico, tra i quali un tentato omicidio e diverse rapine, era da considerarsi pericoloso. Le tempestive ricerche messe in campo dai militari dell'arma hanno consentito di evitare che il fuggitivo potesse commettere altri reati o darsi alla latitanza anche fuori dall'isola. Per lui sono infatti scattate per l'ennesima volta le manette e ultimante le formalità di rito è stato subito trasferito nel carcere di Bancali. Nei giorni scorsi presso l'auditorium dell'IPA di Sassari si è tenuto il convegno del progetto Spiga2, sviluppo percorsi informativi sul grano autoctono e all'octono, finalizzati alla valorizzazione e tutela e conservazione delle risorse vegetazionali autoctone degli agroecosistemi e della tradizione del territorio. Il convegno a cura dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto è stato sponsorizzato dalla provincia di Sassari e organizzato da studenti e docenti dei plesi di scuola dell'infanzia di via Sulcis e via Nievo, dalle classi quinte B e C della primaria di via Manzoni, dalle classi prima A e seconda B della scuola media di via Ogliastra. Un contributo significativo alla buona riuscita dell'evento è stato dato dal dottor Gaida Leuin del CNR Ispa di Sassari, nel ruolo di esperto esterno e formatore dal supporto dell'Istituto Tecnico Agrario di Sassari e dal professor Giampiero Carta, musicista dell'orchestra jazz della Sardegna che ha curato l'allestimento musicale. La scuola dell'infanzia ha contribuito con drammatizzazioni, canti e mostra dei lavori realizzati durante l'anno. La scuola primaria ha esposto una ricerca sulla storia della pizza e un lavoro di tipo scientifico sul grano, i cereali e le tipologie di farina e sui derivati. La scuola secondaria è di primo grado con l'esposizione dei dati desunti dalle attività scientifiche di osservazione sul campo delle piante. Anche quest'anno il Rotary Club Sassari Nord ha organizzato in collaborazione con l'Avis delle giornate dedicate alla promozione della cultura della donazione del sangue. Nell'ambito della quarta edizione del progetto Rubium, ormai in fase di conclusione, si sono organizzate quattro giornate con l'autoemoteca dell'Avis all'emiciclo Garibaldi, l'ultima delle quali sarà sabato prossimo 18 giugno, dalle 8 alle ore 12. Il progetto Rubium Doniamo di cuore si prefigge di coinvolgere sempre più persone nella pratica della donazione, quale segno concreto di solidarietà e partecipazione ai problemi sociali quale? Quello della carenza del sangue che affligge il nostro territorio. A tale proposito il Rotary sostiene l'iniziativa intrapresa dall'ingegner Nicola Milis lo scorso primo giugno, il Cammino Cento Torri, ovvero una sorta di Cammino di Santiago, tutto sardo di circa 1200 km, che ha come obiettivo percorrere a piedi tutto il perimetro della Sardegna, senza mai allontanarsi dalla costa, in un percorso circolare che si snoda tra spiagge, foreste e stagni. Durante questo cammino l'ingegner Milis verrà accolto da delegazioni Avis con le quali promuoverà la donazione del sangue, essendo egli stesso un donatore Avis. Domenica 19 giugno è in programma la 22esima edizione del Triathlon Sprint di Torre Grande, una gara che rappresenta una vera e propria tradizione del calendario regionale, che continua negli anni grazie alla collaborazione tra Triathlon Team Sassari, Sinis Triathlon Uristano e Olubic Sport e Comuni di Uristano. A Torre Grande arriveranno oltre 200 atleti, di cui 140 uomini e 30 donne, nella gara su distanza sprint. Tra gli uomini spiccano i nomi di Gianni Corridori, della Nardin On The Road Bari, Fabio Tramonte della Tri Team Sassari e Fabio Frao della Villa Cidro Tri, mentre tra le donne favoritissima Alice Cappone della Canottieri Napoli e la giovane promessa sassarese Paola Sanna della Tri Team Sassari. Presenti anche alcune stafette nella gara promozionale. Grande partecipazione anche al Trofeo Sardegna, con tanti giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e tante società presenti come mai era accaduto sin ad ora. A testimonianza dell'ultimo lavoro svolto dai tecnici e da responsabile regionale Davide Ecca. Amici di TeleG, benvenuti a questo spazio dedicato alla Torres. Oggi non stiamo a parlare di cose positive, anzi decisamente di cose negative. Sono qua con l'avvocato Gabriele Sata, che è vicepresidente della Fondazione Torres 1903. Buongiorno Gabriele, lunedì scorso avete fatto un'assemblea con tutti i tifosi e avete parlato della situazione attuale della Torres. Ce la vuoi raccontare? Abbiamo ritenuto che fosse il caso di coinvolgere la tifoseria in tutte le sue anime per rappresentare la criticità del momento. Mai come in questo particolare contesto storico la Torres si trova ancora una volta in cattive acque. Qual è la situazione che si è venuta a creare? La vogliamo spiegare per chi non lo sapesse ancora. La situazione che si è venuta a creare vede un deficit di bilancio che oscilla tra i 700 e i 900 mila Euro. Questo a fronte di una società che è stata rilevata dall'allora proprietario Capitani tre anni or sono con debiti pari a zero. Ecco, poi Capitani ha fatto un contratto di vendita con un trio e l'ha venduta a tre Euro. Questa è la novità della quale siamo venuti al corrente proprio nella mattinata di martedì, allorché avevamo in allestimento l'incontro con la tifoseria. La domanda che viene fuori, come si suol dire spontaneamente, è qual è l'obiettivo di questi tre nuovi soci, il Presidente lo ricordiamo dovrebbe essere Daniele Piraino, acquisire una società seppur a 3 Euro con 700-900 mila Euro di debiti. Francamente mi sfugge perché io allo stato attuale non saprei individuare il folle che si caricasse una situazione debitoria di questa consistenza pur rilevando la società sostanzialmente a zero, cioè corrispondendo un Euro per socio così come abbiamo appreso dalla scrittura privata. Pur accreditando questi signori della buona volontà di portare avanti la baracca, io non credo che siano in grado di farlo in queste condizioni e onestamente non vedo vie d'uscita perché il passivo è talmente pesante ed è destinato ineluttabilmente a crescere e a portarsi appresso anche verosimilmente un fardello di sanzioni sul piano sportivo, perché ricordo a chi ci ascolta che risultano pendenze con atleti della stagione appena conclusa e risultano pendenze con atleti della stagione precedente, il che ovviamente comporta ulteriori punti di penalizzazione nella stagione avvenire, qualunque categoria ci vedrà impegnati, quindi io onestamente non riesco a capire quale sia né l'obiettivo né soprattutto la linea di navigazione di questa nuova proprietà. Anche perché diciamocelo chiaramente, non è che Daniele Piraino e Socci abbiano un portafoglio così ampio, così grande, non si sa mai, uno il conto intasca agli altri, non li può fare, però così sembrerebbe che non ce ne abbia, la disponibilità economica tale. In tutta franchezza non credo che siano in grado di poter gestire una società così onerosa con un fardello così pesante. Avete lanciato una petizione, una raccolta di firme, perché? Abbiamo lanciato una petizione con una raccolta di firme, sia online, sia su documenti cartacei, perché siamo stanchi di questa situazione. Noi non vogliamo che la Torres rimanga ostaggio di proprietà poco trasparenti, di proprietà che non hanno dei programmi chiari, che non ci indicano che cosa vogliono fare né a breve né a medio né a lungo termine, purtroppo. La petizione serve e a che cosa serve? La petizione è da un lato uno strumento per raccogliere la sensibilità del popolo torresino, cioè per tastare il polso della tifoseria tutta e questo ci ha già fatto capire in poche ore che è partita sui social e nei punti di raccolta preposti, ci ha fatto capire che la gente è stanca, è stanca di questo stato di cose e vuole che si dia una svolta netta e ci ha in qualche modo delegato, affidato il compito di rappresentare tutta la categoria degli appassionati rosso-blu. Avvocato Gabriele Satta, per concludere possiamo provare a pensare in positivo, secondo voi ma secondo anche il popolo torresino quale sarebbe la soluzione migliore? La domanda non ha una risposta univoca e non ha soprattutto una risposta semplice, la soluzione migliore, forse è meglio dire il male minore in questo momento, allora io senza tema di smentita posso dire che ad oggi la cosa che ci interessa meno è la categoria in sé e per sé considerata, a noi interessa che si possa ripartire magari anche dal basso, sperando che non siano gli inferi della seconda categoria, ma ripartire dal basso con persone serie, affidabili, con un progetto che possa dirsi tale perché questa società, questa città, questa gente non merita l'abisso nel quale è stata fatta sprofondare. Sì ma queste persone ci sono poi? Io ho certezza che se si azzerasse il quadro attuale si ripartirebbe con un gruppo di persone disposte veramente a far rinascere la torres. Questa è già di per sé stesso una buona notizia e con questo io voglio chiudere per essere positivo, per non vedere proprio grigio o nero totale. Io ringrazio il Vice Presidente della Fondazione SF Torres 1903 per il suo intervento, l'Avvocato Gabriele Satta e do appuntamento ai nostri telespettatori alle prossime notizie. Arrivederci. Grazie. Ben trovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio, prima di cominciare come sempre vi ricordo i nostri contatti, lo 079 26 11 50 se volete chiamarci, infochiocciolatelg.tv se volete invece mandarci una mail. Per vedere l'archivio dei notiziari e il notiziario quotidiano vi invito a visionare il nostro sito che è www.otelg.tv, è la nostra pagina Facebook dove troverete il notiziario e le anticipazioni che poi troverete di giorno in giorno approfondite appunto sul notiziario. Al via in città la lotta alle zanzare che con la bella stagione fanno sentire la loro fastidiosa presenza. Nei giorni scorsi è partito il programma di trattamento antilarve organizzato dal settore ambiente del comune di Sassari in collaborazione con la Multis. Nei tombini, sia in quelli dove l'acqua è stagnante che in quelli asciutti, gli operai della Multis stanno posizionando compresse effervescenti di inseticida. La frequenza del trattamento in ciascun tombino è di 14 giorni. Inoltre nei giorni scorsi in Viale Caprera, Viale San Francesco, Viale Umberto, Viale Sete Fratelli, Viale Lubina e Viale Orto Bene a Sant'Orsola sono stati effettuati i trattamenti contro gli affidi dei tigli. Gli alberi sono particolarmente colpiti da questi parassiti che producono una grande quantità di sostanza zuccherina che imbratta la vegetazione e gocciola al suolo, creando disagi nelle vie dove il tiglio è presente. La sinergia tra il comune di Sassari e la Multis ha l'obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi al cittadino. La società ha messo a disposizione del settore ambiente un nuovo portale nel quale inserire le segnalazioni che prevedono interventi per eliminare la presenza di insetti come blatte, zecche e pulci, nonché le colonie di ratti. I tecnici del settore ambiente inseriscono giornalmente le segnalazioni le quali vengono prese in carico dalla Multis e programmate in tempi brevissimi. Il comune di Sassari è il primo a utilizzare questo nuovo strumento che va a sostituire l'invio di fax o email assicurando una procedura più snella ed efficiente. Dal settore ambiente ricordano che i canali di comunicazione attivi con i cittadini, numero verde 800 012 572, oppure le mail ambiente chiocciolacomune.sassari.it, la pagina Facebook ufficiale dell'amministrazione è URP, possono essere utilizzate anche per segnalazioni in merito a interventi di disinfestazioni ed eratizzazioni. Ripeto, il numero verde è 8 0 0 0 1 2 5 7 2. Questo era il comunicato del comune, a me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci scelto anche oggi e ricordarvi naturalmente che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Ciao e grazie a tutti. 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 grazie a tutti.